Missione compiuta, le ragazze Amaranto volano in Serie B. L'Arezzo Calcio Femminile, domenica, ha infatti affrontato all'antistadio Paolo Rossi il Perugia nel derby di ritorno. Sfida che si è conclusa 3-1 per le ragazze Amaranto. Il merito dell'Arezzo Calcio Femminile è stato quello di aver sbloccato il match dopo pochi minuti. Al quinto, Vicchiarello serve Ceccarelli che batte l'estremo difensore perugino. Gneci, Ceccarelli e Razzolini cercano poi il bis immediato ma non lo trovano per un soffio. Questione di minuti perché ad entrare in scena è l'esperta Orlandi con una sua azione. Arriva così il 2-0 al 22esimo. La reazione del Perugia arriva poco dopo. Al 27esimo, Lamenzo trova il gol dell'1-2 con un destro a girare che sorprende il portiere Amaranto. Al 40esimo, da distanza ravvicinata, Razzolini lascia poi partire dal piede destro una conclusione di potenza che non lascia scampo a Cerasa. Nella ripresa le numerose sostituzioni rallentano il ritmo di gara, poco nulla da segnalare nel tacquino finale. Ciferi per il Perugia calcia con potenziale pericolosità verso la porta difesa da Balgimighi, ma la palla finisce fuori. Poi è Zelli sul finale a colpire in diagonale e a segnare, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Così al triplice fischio esplode la gioia Amaranto.